eccoci qua buongiorno o buonasera ormai abbiamo perso il conto di tutto del tempo dello spazio insomma mi sembra di capire che siamo a domenico siamo alla quarta cronaca dal fronte liberista di queste stranissime giornate di clausura di quarantena di autocostruzione in casa con interpretazioni varie del decreto che si può uscire se si può portare fuori il cane se si può andare fuori e fare la pipina e la iola autonomamente se non si ha il cane insomma anche oggi cerchiamo di farci e farvi un po di compagnia e quindi saluto i miei compagni di avventura e di viaggio serena e carlo ragazzi buonasera come andiamo buona domenica io bene ho fatto un picnic oggi alla grande in terrazza ah meno male ecco lo dichiari lo dichiari perché sennò lo dice adesso perché ormai sono decorsi i termini della prescrizione esatto perché la prescrizione ormai non si ferma più ormai ho fatto un picnic in terrazza ci ho messo un po di tempo per rientrare in casa ma l'ho fatto c'era coda vero sul corrido io invece sono sceso a citofonarmi e poi sono risalito a chiedere chi è stupendo questa buona attività io invece devo dirvi che purtroppo devo comunicare a tutti la prematura quasi di partita del mio cane a cui oggi ho fatto fare 28 pipì e 12 chilometri quindi il cane continua a guardarmi come se fossi il suo peggior nemico allora gli argomenti sono tanti perché purtroppo diciamo in qualche modo milioni di milioni la stella dell'articolo 16 ah no scusate è sempre no cominciamo a sfoggiare vedo io stagnano magliettino ormai tiriamo fuori chiaramente non abbiamo più niente di pulito il peggio il peggio chi è mai supereroe chi è alto l'unica che è seria è serena allora gli argomenti sono tanti non so di cosa vogliamo parlare ma credo che abbia tenuto banco e forse ci può fare anche un po piacere parlare vista anche la bandiera che ha dietro che ha dietro carlo della della vicenda del campionato dei calci vedo che una parte ha una parte di union jack ricordando diciamo le origini del glorioso football club del genoa a cui sono così affezionato per motivi miei personali che non sto a dire a nessuno ma ragazzi mi estromettete dalla conversazione no 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 non se ne parla più di calcio no e quindi dicevo chiacchieriamo un po diciamo apriamo cercando di capire un po che sta succedendo in inghilterra e se effettivamente al di là di quello che sappiamo non sappiamo è un po come lo dipingono i giornali c'è una sorta di scelta quasi eugenetica per cui the survival of the fittest muoia chi deve morire e invece resti vivo chi resta vivo a me non è sembrato così però vorrei avere la vostra opinione è complicato secondo me secondo me si possono dare due letture opposte del di quello che sta succedendo in inghilterra che in parte dipendono dal fatto che non sappiamo realmente quali saranno i concreti passi del governo inglese abbiamo soltanto le dichiarazioni del premier e di altri esponenti del del governo l'interpretazione prevalente sui media è essenzialmente sui media italiani per lo meno è sostanzialmente del tipo boris johnson è un pazzo sta sottovalutando drammaticamente la capacità del sistema inglese del sistema sanitario inglese di assorbire i malati e la sua politica è destinata a causare centinaia di migliaia di morti l'interpretazione opposta invece è boris johnson sta seguendo una strategia che peraltro si rifà al piano elaborato già nel 2012 dall'amministrazione britannica secondo cui per affrontare un'epidemia come quella in corso bisogna fare in modo da promuovere il fatto che tutte le persone a basso rischio quindi tendenzialmente i giovani o le persone di mezza età contraggano la malattia e sviluppino l'immunità proteggendo in maniera specifica le categorie più ad alto rischio in particolare gli anziani e le persone immunodepresse come in che modo e attraverso quali quali interventi lo vedremo qualcosa l'abbiamo già l'abbiamo già intuito perché il governo ha sostanzialmente detto che saranno vietati gli assembramenti numerosi e ha chiesto una sorta di quarantena obbligatoria per le persone per le persone anziane vedremo quale se questa strategia funzionerà secondo me c'è anche una terza lettura un po' intermedia cioè da noi è passato il messaggio perché poi in realtà così sembrava all'inizio dobbiamo riconoscere che c'è stato un po' una retromarcia almeno nelle dichiarazioni nelle dichiarazioni ufficiali che si basasse appunto sull'idea di quella che i medici chiamano l'immunità di gregge che i medici italiani poi hanno smentito dicendo che l'immunità di gregge non è assodata per questo tipo di virus però c'è una spiegazione volendo alla strategia di inglese che francamente ora pensare che sia veramente così campata per aria insomma sembrerebbe un po un po eccessivo crederlo e cioè il fatto che posto che non sai se c'è immunità di gregge quanto tempo può resistere una società a stare tutta chiusa in casa cioè quanto è sostenibile dal punto di vista psicologico emotivo economico sociale esatto che siamo tutti chiusi nelle nostre case poiché quindi un'altra spiegazione forse della di quella che abbiamo capito essere la loro strategia è che poiché questo virus sembra particolarmente aggressivo con alcune categorie di persone in particolare gli anziani anche se non solo ci si assume il rischio per la popolazione più giovane si e si fa una strategia diciamo mirata per fasce di età e situazioni di salute in maniera tale che il paese non si fermi che non è una cosa semplice anche questa è perché per esempio isolare le persone che più hanno bisogno in realtà di assistenza non è così banale gli anziani su tutti cioè tenerli chiusi in casa proprio quando magari hanno più bisogno sono le persone che più hanno bisogno di aiuto anche soltanto domiciliare non è semplice però c'è una razionalità che vedremo se sarà vincente ci auguriamo tutti in realtà che qualsiasi tutte le strategie in campo sono buone però c'è una razionalità maggiore probabilmente rispetto a quella di banalmente eugenetica o una sorta di come dire di stato di guerra per cui si salvino soltanto i migliori i giovani e chi è in salute cioè forse per non bloccare un paese perché noi siamo tutti ci stiamo tutti impegnando a stare chiusi in casa ma ci stiamo anche tutti ponendo quanto durerà quanto potrà resistere questa situazione soprattutto che cosa succederà quando usciremo dalle nostre tane no io sono particolarmente accordo a parte che adesso in questo momento mi pare che abbiamo perso stagnaro adesso proviamo a rinvitarlo e volevo solo aggiungere che è caduto ha scritto è caduto sì è caduto adesso adesso proviamo a riaggiungerlo ecco lo sta tornando sta tornando lo vedo lo vedo tornare eccoci carlo ti avevamo perso un attimo ma ti ho visto tornare dico io volevo aggiungere a quello che dice serena che condivido perfettamente anche che a me sembra un po ingenuo direi al limite dello stupido e quello l'atteggiamento che vedo in giro rispetto alle scelte di altri paesi i quali non dobbiamo dimenticare due cose noi stiamo sempre a parlare male del nostro paese non c'è mai nessuno che dice che le nostre istituzioni il nostro governo i nostri politici siano i migliori al mondo se ne parla sempre male in una situazione come questa si guarda un paese che notoriamente ha istituzioni più solide più sane e che funzionano meglio e si pensa che in quel posto siano tutti i coglioni e quelli scaltri siamo noi tra parentesi aggiungerei che il grosso vantaggio che il governo inglese come molti altri stanno avendo è quello che l'italia non ha avuto io non credo che il governo non abbia commesso errori sono disponibilissimo ovviamente a perdonarli tutti i possibili perché la situazione è drammatica ed è una situazione sicuramente nuova non c'è dubbio che gli altri hanno più informazioni di quelle che aveva il governo italiano quando ha cominciato ad affrontare questo problema avere più informazioni significa forse dare anche una risposta diversa in fondo io quello che penso è che noi dovremmo augurarci che gli inglesi abbiano ragione perché se hanno ragione gli inglesi avrebbero trovato e se avranno successo cioè limitando i morti avranno trovato un modo per contemperare la salute della maggior parte delle persone la protezione di quelli più a rischio è una vita più normale possibile il che significa riuscire anche a proteggere nel futuro le persone che oggi non riescono a mangiare perché noi che parliamo oggi possiamo dire a tutti restate a casa ma c'è una larga fascia di popolazione che oggi stando a casa non mangia capisco che è difficile pensarci io sono sempre stato un privilegiato sono un privilegiato mi auguro di continuare ad esserlo però la sera vado a dormire pensando che io lo sono e gli altri no cerco sempre di ragionare così è così è così è una questione appunto di 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 sostenibilità di creare gli argini necessari per per quando arriva la piena noi li abbiamo creati con le notizie con le informazioni che avevamo noi stessi li abbiamo noi stessi intendo come governo e anche come cittadini cambiando le nostre abitudini più o meno obbligatoriamente li abbiamo cambiate in corso e continuiamo a cambiarle in corso non mi stupirei se ci fossero nuovi decreti che cambiano ancora quello che possiamo o dobbiamo fare forse da qualche parte stiamo cambiando anche strategia leggevo sui giornali per esempio che in veneto grazie anche a una donazione di un imprenditore hanno fatto un una dei test di dei tamponi in maniera molto più massiccia che che per esempio in lombardia in questo modo dando ancora informazioni in più sul tasso di letalità di questo virus perché ovviamente calcoli in base al numero dei contagiati quindi le informazioni cambiano le possibilità le conoscenze cambiano ci possiamo soltanto augurare io sono abbastanza tranquilla che non sia così folle o come dire cinica la soluzione inglese mi parrebbe veramente impossibile il contrario possiamo soltanto augurarci che la scommessa fatta non diciamo assunta da Boris Johnson ma evidentemente suggerita condivisa neanche neanche si può pensare come qualcuno dice a Boris Johnson il suo consulente come se fossero in due che decidono il futuro appunto appunto mentre temo che abbiamo perso definitivamente stagnaro quindi ma non è che c'è no perché le partite non si giocano quindi non si è non si è non si è imboscato quello giustamente poco fa faceva notare che quando improvvisamente 60 milioni di italiani si connettono contemporaneamente con l'abbonamento gratis a you porn il problema si presenta allora io direi diciamo di provare a finire questa chiacchierata che perdendo un pezzo importante perché sicuramente anche meno cialtrone di me volevo volevo chiederti in realtà che è una cosa grave secondo me il decreto fiscale che oggi ancora non si capisce se arriva o non arriva esce un comunicato stampa l'agenzia d'entrata dice sulla base di un decreto che vi diremo domani domani non dovete pagare le imposte devo dire che io occupandovi un po' di queste cose non è la prima volta che succede nel senso che non è l'emergenza coronavirus che rende diciamo questo atteggiamento dell'agenzia d'entrata o del governo diciamo particolarmente eccezionale a volte capita ma come mai dico il motivo quale potrebbe essere è complicato farlo è una dirigenza su cui tutti vogliamo salire per mettere un po' di roba che non c'entra sono due ci sono due cose da dire la prima perché ritarda rispetto a quello che trapelava è un decreto dal punto di vista economico enorme quindi credo che la ragioneria dello stato si sia dovuta prendere qualche ora attenzione intanto è tornato stagnaro eh sereno non smettiamo di parlare male di lui perché non possiamo possiamo smettere aspetta fermati stavamo dicendo che il decreto tarda a venire in realtà tarda doveva essere ieri sarà oggi forse domani perché immagino che la ragioneria dello stato lo abbia voluto vedere bene insomma non è facile scrivere una roba del genere come la stanno scrivendo anche lì ci sono delle scelte politiche cioè fare interventi puntuali mirati per ogni singola categoria economica è molto 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 più complicato che fare un intervento più generalizzato se mai fosse possibile quindi c'è un problema sicuramente di coperture per cui la ragioneria generale ci avrà voluto vedere un l'avrà voluto vedere un po' più di soltanto 24 ore certo è sarebbe anomalo che le misure vengano anticipate da un comunicato stampa se ormai non fossimo abituati a queste cose ora che stagnaro è tornato a sentirci lo posso dire chiaramente ai tempi del suo governo preferito tra gli ultimi noi avevamo come fonti del diritto le slide ecco prego stagnaro non è vero perché le fonti del diritto erano le norme che venivano approvate come pensavo che mi dicevi tweet quelli sono le fonti degli stati uniti ormai esatto no però diciamo c'è una differenza sostanziale le slide di allora e anche comunicati stampa di oggi in generale generano tanta discussione sui giornali a in qualche maniera senza conoscere le norme altra cosa è un comunicato del ministero dell'economia che dice alle partite iva che potranno esimersi dal fare un versamento entro una certa scadenza sulla base di un decreto che verrà adottato insomma un conto è una slide un conto è un comunicato stampa che arriva ai commercialisti che lo gira nei loro clienti eccetera non ce la faremo mai a menta secondo me i primi amori non si scordano mai è giusto anche così mi fa onore ogni tanto ma è del sentimento anche in stagione no no sentimento non c'è del sesso anche in questo caso probabilmente ma noi non lo vogliamo sapere ma no drammaticamente no drammaticamente no purtroppo diciamo non ho avuto questa questa fortuna o sfortuna dipende dai casi no io credo che il problema del decreto di oggi che forse verrà adottato oggi sia che c'è una parte di questo decreto che è relativamente semplice da scrivere e su cui anche la ragioneria stessa è pronta ha fatto dei ragionamenti eccetera e come al solito questo decreto verrà visto come tanto più in un momento come questo in cui c'è c'erano le maglie un po più larghe verrà visto come un'opportunità per infilarci cose che non c'entrano niente o che c'entrano solo senso molto alto o che comunque avrebbero potuto ecco l'abbiamo l'abbiamo perso definitivamente se le adottate nell'arco delle posizioni di più io continuavo a parlare ma avete pensato sì sì ma il pensiero si è capito pensurato no 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 è che noi no i poteri forti no è che stando sul fronte purtroppo diciamo ti capita che salti la linea io dati i problemi oggi tutti questi connessi sui siti porno volevo volevo carlo invece no no o secondo me sono tutti connessi a seguire le dirette dalla presidenza del consiglio no secondo me o seguire le liturgie no anche seguire la sera quelli che vanno quelle del suo superiore sanità che appena spunto io mi tocco i coglioni subito ve lo dico perché è un bollettino dei morti che uno dice porca miseria no però sono briosi no sono briosi ti intrattengono esatto no invece stagliaro io vorrei che tu chiudessi perché credo che diciamo tu avessi individuato nel decreto un articolo se non ricordo male che no se c'è un articolo mi sembra particolarmente bello vorrei lasciare tutti con questa possibilità ecco ci tenevo no nelle bozze stiamo parlando naturalmente delle bozze che circolano e che peraltro non dovrebbero circolare comunque circolano e chi ce l'ha verrà arrestato nelle bozze che circolano il nuovo stato di politica prevede questo c'è l'interpretazione della bozza circola ma può circolare vicino casa cioè dove la fanno esatto se va troppo lontano la bozza ha circolato troppo e questo la pone a rischio di arresto esatto allora nelle bozze circola un fantomatico mi scuso con serena non articolo 16 ecco ma articolo 68 il quale recita anzi reca come direbbe serena menzione per la rinuncia alla sospensione e recita comma 1 e unico i contribuenti i quali virgola non avvalendosi di uno o più tra le sospensioni di versamenti previsti dal presente titolo e dall'articolo 36 cioè il rinvio dell'ivee contributi i versamenti contributivi eccetera i contribuenti quali non avvalendosi di queste opportunità effettuano alcuno dei versamenti sospesi virgola questa virgola tra il soggetto e il verbo è terribile comunque i contribuenti non stiamo a sindacare che già l'hanno scritto di fretta non va più possono chiedere che del versamento effettuato sia data comunicazione sul sito istituzionale del ministero dell'economia delle finale eroi della patria eroi della patria eroi della patria hanno dato l'oro alla patria perché ormai io ve lo voglio dire spero di sbagliarmi ma la via più o meno io che comincio a vedere è quella lì la via verso la servitù ma mi sbaglierò sarò uno che non si rende conto e a questo punto però ci vorrebbe una rima di stagnaro per chiudere io non ne ho non so se gliene vengono così col collegamento che ho avuto tu non ti rendi conto ma l'articolo 16 è pronto eccoci qua allora salutiamo tutti grazie ancora e ci vediamo domani ciao ciao ragazzi ciao